eccoci buonasera e benvenuti a tutti ciao Andrea ciao Gianni benvenuti bentornati a una nuova puntata bene vedo che gli spettatori stanno arrivando e sono tanti allora come sempre siamo qui per una nuova puntata Andrea quasi non lo devo presentare perché ormai è un vecchio vecchio per modo di dire un abitué dei nostri webinar questa sera come avrete visto dal titolo intuite dalle foto che sono sui nostri sfondi vi portiamo un po sulla terraferma e un po al mare in un paradiso terrestre che sono le Galapagos e insieme anche con per un breve tour in Ecuador giusto Andrea? Sì esatto questo sarà appunto un viaggio orientato soprattutto alla parte delle isole che sicuramente richiedono un po' più di approfondimento perché so che dove c'è un po' più di difficoltà magari di inquadrare alcuni aspetti e naturalmente una parte del continentale perché comunque da lì si deve passare per arrivare alle alle isole Galapagos quindi faremo una breve così diciamo un passaggio per la capitale e i suoi dintorni interessantissimi e poi ci dirigiamo per dedicarci un po' di più alla parte insulare. Molto bene tra l'altro io ho avuto la fortuna di fare questo viaggio regalapagos organizzato da te insomma io e tutte le persone che erano con me abbiamo un ricordo magnifico. Allora ricordo a tutti brevemente che i nostri webinar vengono sempre tutti registrati perché è una domanda che ci fate sempre li trovate sul sito di pianeta Gaia nella sezione aperiviaggi proprio cliccando su aperiviaggi vedete che ci sono futuri o archivio futuri sono tutti gli aperiviaggi ai quali potete iscrivervi per adesso ci sono quelli pubblicati fino a metà giugno dopodiché riprenderemo a settembre nel giro di un mesetto pubblicheremo tutta la stagione come dire autunno-inverno invece se andate su archivio trovate i nostri ormai 130 140 forse anche di più webinar sulle varie destinazioni del mondo lì trovate anche una tendina un menu a tendina con le varie nazioni da cui potrete filtrare le varie nazioni senza impazzire a scorrere col telefonino o su e giù per il per lo schermo del computer detto questo qualcuno mi ha già salutato grazie per alfonso buona serata dalla chat potete farmi tutte le domande farci tutte le domande io le riporto ad andrea a questo punto andrea ti direi che possiamo cominciare per non perdere altro tempo vai io intanto allora iniziamo a condividere lo schermo così entriamo già un po nel in questo mondo di animali soprattutto no perché io io e te siamo anche circondati da animali negli sfondi per cui capiamo che questa sera si parlerà soprattutto di fauna di natura una destinazione veramente tra le top al mondo per chi ama natura ed animali e quindi io appunto come già molti di voi sapranno sono responsabile di tutte le mete latinoamericane per pianeta gaia per cui lo sviluppo poi di viaggi di queste destinazioni li seguo io e stasera appunto viaggiamo proprio nel cuore del continente sudamericano con questo paese ecuador che ci porta giustamente in prossimità dell'equatore da questo prende il nome e qui vediamo appunto dove ci troviamo a livello proprio di di globo esattamente a cavallo appunto di questa linea che divide praticamente i due emisferi e l'arcipelago del galapago si trova a largo della della costa pacifica e a circa 1200 chilometri cominciamo però a vedere in generale qualche informazione essenziale solo per inquadrare un po la destinazione un paese che tutti tendono a immaginare come piccolo ma è piccolo rispetto agli altri per cui veramente quando si dice che è tutto relativo l'equador in generale in sudamerica è un un micro paese però in realtà è grande più o meno quanto l'italia quindi le distanze sono abbastanza contenute ma non pensiamo di di andare in un paese veramente piccolo la popolazione circa diciotto milioni di abitanti e capitale chito che fa circa due milioni di abitanti e una repubblica presidenziale indipendente dal 1830 in quel periodo tra 1820 1830 si sono effettivamente sviluppate formate tutte le nazioni dell'america latina recuperando la propria indipendenza dalla dalla spagna per cui l'equador non fa eccezione l'equador ha avuto anche una fase storica in cui ha fatto parte di quella che viene conosciuta come la gran colombia quindi era una macro nazione che includeva anche la colombia e l'attuale venezuela e si parla lo spagnolo e come in tutte le zone andine si parla anche un certo numero di lingue indigene in particolare il chechua o diciamo delle varianti comunque della lingua chechua che ricordo spesso non è solo una marca del decathlon ma è effettivamente la lingua più importante che viene parlata nelle zone delle ande soprattutto peruviane e appunto dell'equador la moneta è il dollaro americano perché l'equador già dal 2000 ha rinunciato alla propria moneta e adottato proprio come moneta ufficiale quella del dollaro quindi non ci sono diciamo molti misteri su quello che è il cambio i soldi eccetera tutto in questo senso molto semplice ok ti faccio una brevissima domanda prima vanno subito al sodo abbiamo Gabriella che chiede se l'equador è un paese pericoloso ah subito così prima domanda allora questa è una domanda che mi permetto di dire che è proprio riflette un po' il momento in cui ne stiamo parlando perché forse molti sanno a gennaio c'è stato un evento mediaticamente molto vistoso a livello di sicurezza che è quello di un assalto in televisione in diretta nella città di Guayaquil e questo ha creato diciamo questa sensazione di grande pericolosità allora innegabilmente l'equador è un paese che negli ultimi anni ha attraversato una fase delicata questo perché c'è un problema noto in tutta l'america latina che è quello del narcotraffico e spostandosi questo problema dalla colombia verso altre aree in particolare il messico e appunto l'equador ha creato questa problematica allora non dobbiamo generalizzare troppo allora intanto appunto il problema non è nato il 9 gennaio con l'evento di cui tutti ricordiamo la notizia ma è un problema che riguarda questo paese già da anni e che si sta tentando diciamo di gestire sappiamo bene che purtroppo queste sono problematiche complesse il sud america non è una destinazione facile in generale quindi io dico sempre un viaggio in questi paesi va affrontato con attenzione però al tempo stesso non bisogna essere paranoici e come pensare non vado in Brasile perché ho sentito dire che Rio e San Paolo sono pericolose la realtà è sempre molto più ampia e complessa quindi il problema principale in Ecuador in questo momento è sulla costa le città soprattutto della costa in particolare Guayaquil che è un porto il porto più importante del paese e da lì passa purtroppo anche gran parte di questi traffici illegali e per il resto la città di Quito è un vive una realtà abbastanza diversa abbiamo sempre fatto viaggi tranquillamente in questa destinazione io sono stato molte volte e non ho avuto mai nessun problema quindi dire che è tutto perfetto non avrebbe senso ma allora appunto dobbiamo ricordarci che comunque siamo in sud america quindi sono delle delle nazioni che purtroppo hanno delle fragilità ok che sono evidenti quindi però diciamo anche che visto che oggi parliamo in particolare di Galapagos le Galapagos sono un mondo a parte completamente non hanno nulla a che fare con le problematiche che invece ci sono eventualmente a Guayaquil e dintorni e lì è proprio un mondo di assolutamente pacifico è chiaro che dobbiamo passarci anche dalla parte continentale però vi assicuro che quando facciamo un piccolo tour della parte soprattutto dell'altopiano intorno a Quito le problematiche che si possono trovare in quel caso in Ecuador sono le stesse che si possono trovare in tanti altri posti diciamo del mondo poi io sono il primo a non presentare mai le cose solo come paradiso in terra ci sono delle fragilità che sono effettivamente presenti e che vanno giustamente segnalate poi noi ovviamente siamo sempre aggiornati insomma seguiamo l'evoluzione delle cose quell'evento famoso di cui abbiamo parlato non a caso è arrivato subito dopo le elezioni per cui c'era bisogno del che facessero vedere insomma che erano forti no quelli i cattivi dovevano far vedere che erano effettivamente presenti e forti per il nuovo governo parentesi per ora chiusa spero di aver risposto alla domanda venendo invece a come arrivare dimmi non ho niente vai pure perfetto come arrivare appunto accettando che il paese sia assolutamente interessante da da visitare e lo è possiamo arrivarci fondamentalmente in due modi dell'Europa via Madrid che è la soluzione più frequente e Madrid è un po' il punto di partenza della principali dei principali voli per l'America Latina quindi anche l'Equador e Amsterdam che ha un buon collegamento anche con la destinazione per cui dall'Italia possiamo arrivarci sempre solo con uno scalo e facendo poi il classico volo intercontinentale di circa 10-11 ore dal punto di partenza internazionale cominciamo subito a parlare anche di aspetti pratici questa è una domanda quella del clima e quando andare che in effetti in questo caso crea abbastanza disorientamento perché il paese ha una geografia molto complessa infatti ho fatto in questa vignetta una semplificazione in cui ho immaginato che qualcuno possa pensare l'Equador si trova chiaramente come dice il nome sull'equatore quindi ci sarà un clima equatoriale che corrisponde nell'immaginario a un caldo umido tutto l'anno questo non è propriamente vero perché dobbiamo confrontarci con la situazione specifica di questo paese quando parliamo della parte di Ecuador continentale ci troviamo di fronte almeno a tre ambienti totalmente diversi abbiamo l'ambiente della costa che è questo appunto che vediamo in verde che è decisamente un ambiente abbastanza diciamo caldo umido tropicale che corrisponde un po' a quell'immaginario poi abbiamo il cuore del paese perché dove si trova la capitale e anche molte altre località importanti che è questa parte di alto piano di sierra sarebbe la parte della cordillera andina che attraversa tutto il paese dove abbiamo un clima completamente diverso perché l'altitudine qui può anche raggiungere dei valori importanti la capitale si trova a 2800 metri e la seconda capitale più alta del mondo e la vedremo la vedremo tra poco quindi il clima in questo caso è molto influenzato dall'altitudine e possiamo dire che il clima è molto variabile in questa zona però in generale abbiamo un clima fresco un clima che tende a essere un po' più piovoso nel periodo della nostra del nostro inverno soprattutto la primavera inizio primavera insomma marzo aprile ancora abbiamo un po' di pioggia poi si inizia un periodo invece un pochino più secco e un po' più freddo quindi è vero che siamo all'equatore le giornate sono sempre uguali 12 ore 12 ore luce e notte e però c'è effettivamente una differenza a livello di temperatura perché lo vedremo tra poco c'è un motivo per cui la nostra estate è un po' più fresca rispetto al nostro inverno e poi abbiamo la terza parte che è quella del bacino amazzonico che chiaramente invece proprio tropicale umido e in generale abbastanza piovoso Emanuele che proprio poco fa mi scriveva nella chat che proprio chi che l'Equadra è suddiviso in due grandi aree tu hai ancora aggiunto che c'è la seconda la terza area che è quella amazzonica che è veramente come dire particolare c'è un paese diviso in tre grandi fasce io faccio una domanda molto particolare che probabilmente come dire potremmo affrontare anche un po' più avanti ma se non mi dimentico e cioè abbiamo Pierranfonso che chiede che cosa sappiamo che cosa sai del popolo Kofan e dell'etnia Uncumari. Allora questo ci porta però potremmo chiamare in campo il nostro amico Roberto Cornacchia che è l'espetto di etnie ma che non so se in questo momento ci ascolta penso che siano delle etnie nella zona equatoriale. Sì allora in effetti sì qui in effetti però mi permetto di lasciare questa risposta per un altro momento perché in effetti oggi siamo più orientati sulla parte invece della fauna e della natura delle Galapagos per cui questo ci porterebbe ad affrontare un discorso etnico che è molto interessante e potremmo prenderlo come suggerimento in effetti per un approfondimento perché l'Equador veramente per quanto un paese piccolo offre tantissimo sono tantissime le ambienti, gli habitat, le etnie per cui lo lasciamo per un altro momento questo della parte etnica. Ricordiamo solo che tra la parte ammazzonica e la parte delle Ande effettivamente è un paese che ha una fortissima presenza ancora di non solo di etnie ma proprio di cultura viva indigena e quindi per chi è interessato a quel tipo di aspetto è un paese che offre veramente ancora molto. Tra poco vedremo giusto qualche immagine anche degli aspetti indigeni appunto che sono presenti. Il viaggio che faremo oggi sarà diviso appunto in due parti, la parte della capitale Chito e dei dintorni e poi la parte delle isole Galapagos in cui Baltra è il punto di arrivo, il punto di arrivo principale almeno e qui vediamo che quello che dicevi prima delle tre anime se vogliamo del paese in realtà possiamo dire che sono quattro perché giustamente ci sono anche le isole Galapagos che sono un ambiente totalmente indipendente, autonomo e quindi forma questa quarta, questo quarto Ecuador diciamo che merita veramente una sua dimensione e una sua identità. Allora come dicevo Chito è la seconda capitale più alta del mondo dopo la paz in Bolivia, è una città patrimonio dell'umanità, è una città che è un meraviglioso centro storico che è stato dichiarato appunto già da molti anni dall'UNESCO patrimonio e è una classica città coloniale per cui sono numerose le città coloniali di origine appunto spagnola che troviamo in Sud America e sono molte quelle che sono in altitudine per cui abbiamo in Quito in questo caso, abbiamo Cusco in Peru, abbiamo Popayan in Bolivia, abbiamo Sucre in Bolivia, quindi è il classico esempio di città dell'altopiano di stampo prettamente coloniale. Gli edifici sono in gran parte ancora appunto di questa chiara influenza spagnola, con quindi queste barocco, le facciate meravigliose, ma soprattutto all'interno troviamo questi patios che molto spesso chiaramente dall'esterno non si possono vedere, ma per esempio soggiornare in alcuni hotel che sono ricavati da questi antichi edifici permette di vivere veramente le atmosfere di quest'epoca. Ricordo ancora perché questo è l'albergo dove mi hai mandato a dormire col gruppo, quindi ricordo bene quell'albergo, magnifico. È semplicemente uno comunque dei tanti. Oggi appunto facciamo una piccola introduzione a quella che è la parte continentale, però vi segnalo che appunto Chito è una città che veramente merita assolutamente una visita, sia per il centro storico e anche per il monumento del centro del mondo, che appunto è corrispondenza della linea dell'Equatore, che al di individuare dove si trova effettivamente il passaggio della linea, presenta anche un interessante museo con museo etnografico in cui ci sono anche degli interessanti esperimenti che si possono fare proprio diciamo a cavallo della linea dell'Equatore. Chito è una ottima base per esplorare anche i dintorni. Possiamo fare un lungo o un diciamo minimamente lungo tour che da Chito ci porti anche a pernottare fuori dalla capitale, ma in questo caso oggi semplicemente vediamo un po' gli spunti per espursioni che si possono fare da qua e negli intorni troviamo subito una natura molto esuberante. Soprattutto abbiamo diciamo due versanti che scendono, uno verso il bacino mazzonico e l'altro verso la costa, che in entrambi i casi offrono una natura tropicale di selva umida, meravigliosa. Questo è uno dei posti con la più grande biodiversità veramente a livello di vegetazione, una ricchezza enorme per quanto riguarda farfalle, uccelli e altri e altri animali, quindi gli amanti degli animali già possono cominciare qui ad avere grandi soddisfazioni. Un'altra cosa che è molto interessante, ci sono delle acque termali vicino alla capitale che sono molto ben diciamo organizzate, giustamente in gran parte della zona andina è caratterizzata da vulcani e l'Equador ne è un esempio e tra poco approfondiamo appunto questo aspetto. Quindi la presenza di vulcani naturalmente porta con sé anche la presenza di acque termali che in questo caso possono diciamo permettere una un'occasione anche di relax eventualmente in una in un viaggio nella capitale. E poi quello che secondo me è la cosa più interessante da fare quando si va a Quito è esplorare un minimo anche quella che viene chiamata l'avenida dello svolcano, quindi la via dei vulcani che si sviluppa a sud della città. Da Quito porta fino praticamente a Quenca che è la seconda città coloniale più importante, non è la seconda città più grande ma è a livello diciamo di interesse turistico sicuramente la più importante dopo la capitale e vediamo in questa mappa schematica che ci troviamo a percorrere un percorso, un itinerario in cui ci sono numerose vette che superano addirittura i 6 mila metri nel caso del Cimborato o nel caso del Cotopaxi che diciamo che sfiora questa altitudine. Quindi parliamo di altitudini veramente importanti nelle vette e una curiosità è che tutti sappiamo che la montagna più alta del mondo è l'Everest ma in realtà la montagna che ha la punta più distante dal centro della terra è proprio il Cimborato, quindi potremmo dire che da un certo punto di vista questa sia la montagna più alta del mondo ma se consideriamo che la terra appunto non è una sfera perfetta si creano queste differenze quindi la distanza proprio dal centro della terra dimostra che questo sarebbe il punto più alto in assoluto. Qui abbiamo molti posti da visitare, da esplorare e qui semplicemente propongo poi quando si sviluppa un viaggio di valutare il tipo di esperienze ma in particolare questi sono i paesaggi che troviamo in questa zona, queste sono le immagini di questi meravigliosi coni che sono molto spesso anche ancora attivi questi vulcani e questo è una per esempio delle meraviglie della zona che è la laguna di Chidotoa che si può raggiungere con un percorso attraverso insomma strade già abbastanza secondarie e poi soprattutto questa è zona dove sono ancora molto vive le tradizioni dei mercati, qui Gianni ricorda bene diciamo anche le bellissime fotografie che sono ancora qui esposte in agenzia con le immagini di questi mercati di qualche così di un viaggio che abbiamo fatto con un gruppo la zona andina dell'Equador è ancora appunto molto popolata da comunità che hanno le loro tradizioni soprattutto di così che prevedono un mercato settimanale e quindi ogni giorno della settimana c'è un punto di mercato che può essere appunto a distanza di alcune decine di chilometri l'uno dall'altro proprio per permettere a queste comunità di ritrovarsi e di fare scambi sia commerciali che anche diciamo sociali questa è ancora un'immagine tipica di un mercato locale c'è una ricchezza di frutta incredibile proprio il fatto che l'Equador si trovi in questo posto specifico a cavallo di zone tropicali umide lo rende particolarmente proprio adatto per la produzione di questo tipo di prodotti. Quello che ti colpisce del paese è anche molto l'aspetto cromatico la frutta colorata i vestiti che sono colorati cioè torni a casa che hai veramente come dire non so ogni paese ha un suo colore l'Equador ne ha veramente mille da tutti quando passi nel mercato è un ricordo bellissimo. No sono veramente quando cerchiamo appunto quei luoghi che diciamo ancora non rovinati dal turismo di massa eccetera no l'Equador offre ancora tante di queste esperienze proprio non influenzate più di tanto dal turismo. Iniziamo appunto il viaggio invece nelle Galapagos proprio per il fatto che è una destinazione molto peculiare e quindi approfondiamo un pochino di più. Allora beh intanto qui c'è un po' il simbolo delle isole una piccola nota diciamo linguistica appunto ne approfitto per dire che si dice Galapagos e non Galapagos che spesso in Italia viene detto in questo modo che non è corretto. Galapagos si riferisce appunto alle tartarughe per questo il significato della parola che sono l'animale simbolo delle isole. Tartarughe che sono sia terrestri, le tartarughe giganti che sono famose appunto anche se in questa foto vi posso solo dire che è grande ma non si può capire perché non ci sono molti elementi per vedere le proporzioni ed è in realtà anche un paradiso per le tartarughe marine quindi le tartarughe sono veramente forse i protagonisti più importanti di questa destinazione. Qui cominciamo a vedere appunto a livello geografico intanto dove si trovano? si trovano a largo delle coste appunto del Sud America circa 1200-1300 chilometri di distanza e sono un arcipelago abbastanza grande e soprattutto è costituito da tante isole. In particolare sono 7-8 le principali e poi c'è tutto un numero diciamo di isole minori. Dicevo sono tante isole e sono piuttosto distanti tra loro per cui questo poi ha diciamo tutta una serie di conseguenze dal punto di vista logistico proprio per la visita, l'esplorazione che vedremo. Il viaggio che le ha rese celebri è il famoso viaggio che Darwin iniziò nel 1831 e che fu un viaggio di cinque anni in realtà in cui circunnavigò tutto il mondo e in particolare si soffermò a lungo in questo arcipelago proprio perché qui trovò molte delle prove, delle sue teorie, ha potuto trovare delle specie che effettivamente sono presenti solamente lì. Adesso sarebbe veramente un discorso infinito, però sappiamo quanto Darwin abbia potuto comprendere e scoprire riguardo all'evoluzione delle specie grazie proprio a questa esperienza che ha fatto in quegli anni e innegabilmente appunto ancora oggi è un nome ancora molto presente nelle isole, quindi è proprio quello che è un po' le ha rese celebri nel mondo. Qui voglio far vedere alcuni paesaggi delle Galapagos per cominciare a capire che tipo di ambiente troviamo. Troviamo un ambiente tipicamente vulcanico, un ambiente sicuramente aspro, se vogliamo anche in ospitale, in queste prime immagini che vediamo proprio ci sono chiaramente tutti i segni di eruzioni che hanno formato questo arcipelago, abbiamo un'infinità di crateri e di molti di questi ancora attivi, io adesso vi farò vedere anche una testimonianza proprio mia personale, dal satellite addirittura possiamo vedere proprio come tutte le isole siano composte da una serie di vulcani che ancora fumano allegramente e tra l'altro questa è un'immagine molto bella dell'isola di Isabella che se vedete ricorda un po' un cavalluccio marino, è l'isola più grande dell'arcipelago, un'isola in gran parte disabitata e qui appunto come dicevo si può eventualmente avere la fortuna ancora di vedere qualche evento come questo, un'eruzione che io ho avuto la fortuna di di vedere qualche anno fa e di poterla vedere in tutta sicurezza dalla propria imbarcazione, per cui spettacoli veramente unici, questa è un'immagine fatta verso l'imbrunire con la colata lavica che arriva fino al mare. E oltre ai paesaggi naturalmente ci sono gli animali che sono forse il motivo principale per cui si va a visitare questo posto e che sono, io dico sempre, i veri abitanti del luogo, mi piace pensare che qui gli umani siano semplicemente degli ospiti, anche se ci sono cittadine, ci sono ormai presenze stabili di vita anche di popolazione umana, però diciamo che per fortuna anche proprio per come è stata organizzata il parco nazionale di questo arcipelago, gli animali continuano ad essere i protagonisti e quindi siamo noi a doverci adeguare a loro e non viceversa. Quindi questo è abbastanza un caso raro nel mondo, come sappiamo. Quindi queste sono altre presenze molto abituali che sono i leoni marini, che li troviamo sia spiaggiati, decisamente così pigri nella loro vita terrestre, così come sono invece vivacissimi quando sono in acqua. Le iguane di tantissime specie che vediamo ovunque, tra l'altro hanno questa simpatica abitudine di buttarsi una sull'altra e a volte di abbracciarsi anche tra loro. Gran parte di queste immagini sono foto mie che, insomma, io non sono un fotografo particolarmente bravo, ma questo solo per dire che sono immagini comuni, cioè non sono le immagini che ha fatto, non so, il National Geographic, sono semplicemente immagini che proprio chiunque visiti queste isole può portarsi via. Le iguane, come dicevo, che sono in molte specie, questi sono tra, diciamo, gli animali che si ricordano poi più volentieri per il fatto che hanno queste zampette meravigliose, sono le sule dalle zampe azzurre, ci sono anche nella versione con le zampe rosse. Quelle con le zampe sono veramente azzurre di quel colore, io quando le avevo viste non credevo, pensavo che fossero state colorate un po' con Photoshop, gli avessero un po' dato un tono, invece hanno proprio quell'azzurro lì che è quasi naturale. È naturale perché poi soprattutto quando stanno sulle rocce nere, laviche, ovviamente fanno un contrasto meraviglioso. Così come fanno un contrasto, dimmi. Ti faccio solo una brevissima domanda, abbiamo Daniele che ci chiede, Daniela scusa, che ci chiede se è possibile fare le immersioni alle Galapagos. Io lo so, ma posso la lasciare. Ne parliamo tra poco, per cui la rimando solo. Quindi i granchi anche sono meravigliosi, ci sono degli esemplari incredibili con questi colori che anche loro sulle rocce nere creano veramente dei contrasti cromatici pazzeschi. È veramente il paradiso dei fotografi, anche diciamo di quelli non troppo bravi, proprio per il fatto che è una natura così unica, così esuberante, così sfacciata quasi, vorrei dire, perché non si nascondono gli animali. Sappiamo che appunto in questo posto non hanno paura e lo vedremo anche questo. E quindi è proprio facile diciamo relazionarsi con questa parte selvatica dell'arcipelago. Questa è una fragata, in amore fanno questi, gonfiano appunto il petto per sedurre. E qui c'è un animale che non dovrebbe essere qua, che è il pinguino, un animale che sappiamo che normalmente popola le terre antartiche, ma arriva qui proprio per la presenza di correnti che dall'antartide arrivano e che spiegano in realtà moltissimo del perché ci sia tutta questa vita in questo posto del mondo e non in altri. E lo vediamo appunto in questa, in questo semplice schema. Qui vediamo il perché proprio queste isole sono diventate il paradiso degli animali ed è come capita spesso per una serie di coincidenze. Allora, intanto sono delle terre emerse che in mezzo all'oceano pacifico non sono così scontate perché ovviamente siamo in una enorme distesa di acque, però queste eruzioni hanno creato delle terre che emergono proprio qui in corrispondenza dell'equatore dove c'è un incontro cruciale per generare la vita che sono le due correnti principali, che sono la corrente fredda di Humboldt che arriva proprio dall'antartide ed è quella che rende diciamo così desertico tutto il tutta la costa del Sud America, dal Cile al Perù, ci sono i deserti più aridi del mondo, proprio perché questa corrente fredda crea delle condizioni per cui non piove mai su quelle su quelle coste e questa corrente praticamente in corrispondenza dell'equatore si scontra con la corrente calda che arriva invece dal nord e dalla zona di Panama. Quindi questo gioco di correnti porta da un lato il calore e dall'altro porta il nutrimento che arriva dalle acque fredde e questo è il motivo per cui anche i pinguini raggiungono le Galapagos, proprio perché sono portate anche grazie proprio a questo nutrimento dalle terre antartiche fino alle terre australi fino a questo punto che è completamente fuori dalle loro rotte abituali e con questo possiamo cominciare anche a parlare poi del clima in modo diciamo appunto un po' schematico perché nonostante ci si trovi sull'equatore in realtà il clima non è sempre uguale, anche qua ci sono delle differenze abbastanza importanti perché nella nostra estate tende a prevalere la corrente fredda quindi c'è decisamente più nutrimento che arriva nell'arcipelago, la vita è molto vivace diciamo in quel periodo, mentre nel periodo della nostra del nostro inverno prevale un po' di più la corrente di Panama, la corrente calda per cui porta acque effettivamente molto più tiepide, a terra può fare decisamente caldo mentre nella nostra estate le temperature sono in generale abbastanza fresche, ci sono presenze anche di nebbia molto spesso il mattino presto nella nostra estate che poi invece nella stagione opposta di gennaio e febbraio sono assolutamente poco probabili, per cui siamo sull'equatore ma il clima è piuttosto diverso, quando andare alle Galapagos potremmo dire che le mezze stagioni potrebbero essere quelle più indicate perché se pensiamo che quando fa caldo sia più piacevole anche la parte acquatica, il viaggio alle Galapagos io dico sempre è 50-50, terra e mare, cioè non è una destinazione balneare, non sbagliamo in questo senso perché non è proprio da considerare un posto dove fare semplicemente soggiorno balneare, ci sono posti molto più interessanti, migliori, più economici, però per fare l'esperienza invece diciamo di spedizione e di safari fotografico la parte appunto dell'esperienza marina è più o meno equivalente come importanza rispetto a quella terrestre, per cui quando fa un po' più caldo in acqua è più piacevole la parte acquatica, quando fa un po' più caldo a terra viceversa, al tempo stesso però quando a febbraio ci sono 35 gradi a fare una bella camminata sul vulcano non è poi così piacevole, per cui io suggerisco di scegliere le mezze stagioni e se possibile quelle di aprile maggio sono proprio le fasi più indicate perché il mare è un po' più calmo normalmente dopo la stagione del nostro inverno, mentre settembre, ottobre eccetera sono mesi in cui il mare è un pochino più mosso. Questo è proprio una sintesi molto semplicistica però che permette di inquadrare un pochino quando fare il viaggio. Ti interrompo un secondo mentre abbiamo questa bellissima immagine degli animali sulla spiaggia. Allora per confermarti quanto tu hai detto, nel senso che quando noi siamo stati ad aprile, era la Pasqua di qualche anno fa, poco prima del del covid, avevamo avuto la possibilità di fare dei bagni magnifici con l'acqua che aveva una temperatura perfetta assolutamente e l'emozione di come dire di fare il bagno e di immergersi con la maschera e sottovedere le tartarughe che nuotano insieme a te e come si dice aiutami come si chiama? I leoni marini. I leoni marini che giocano con te, che sono velocissimi in acqua e giocano con te è veramente unica. Abbiamo due domande, alla prima posso rispondere io velocemente così tu prendi fiato. La domanda è se sono aggressive le iguane ci chiede Antonella assolutamente no, questi animali sono abbastanza abituati diciamo alla presenza umana per cui quando si sbarca con i canotti sulle spiagge si può arrivare puoi fare le fotografie da vicino e chiaro non vai lì a mettergli il dito a toccarle con la mano ovviamente però loro sono lì, sono al sole tranquille, ti guardano, come dire, c'è un reciproco rispetto e non sono pericolose. La seconda domanda che io trovo molto tecnica quindi non saprei sicuramente rispondere ma te la faccio ugualmente Piero Alfonso e chiede se la e la corrente di Cromwell come interagisce con quella calda di Panama e quella fredda di Humboldt? Qui mi sa che ci vuole... Sì no, qui dobbiamo chiamare un'altra persona perché io sono un discreto esperto della parte logistica del viaggio e conosco le le situazioni macro diciamo di ciò che genera questa situazione però non mi sentirei di andare oltre a quello che vi ho raccontato effettivamente ci sono persone che saprebbero rispondere molto meglio di me su domande così tecniche quindi quello che ho fatto prima è proprio una esemplificazione per comprendere in poche parole il perché ci sono quasi tanti animali in questo posto del mondo ed è in sintesi quello che vi ho raccontato poi certamente ci sono molti altri aspetti che concorrono. Vai proseguiamo perché gli animali non temono l'uomo e a questo punto direi anche viceversa perché possiamo dire anche noi non abbiamo nessun motivo di temere gli animali le iguane come tutti gli altri animali ma le garapagos sono estremamente pacifici non c'è nessun tipo di aggressività nei confronti dell'uomo a meno che vabbè veramente non ci sia qualche tipo di atteggiamento che può spaventarli o può farli sentire in pericolo. I motivi per cui gli animali non temono l'uomo fondamentalmente ha una spiegazione anche qua che potrebbe essere vista in tante sfaccettature ma in gran parte è dovuto al fatto che loro qui abitano da sempre e la presenza umana è molto recente fa proprio parte diciamo della storia degli ultimi decenni e per fortuna già dagli anni cinquanta del secolo scorso è stato creato il parco nazionale con delle regole molto severe quello è stata veramente una decisione di grandissima lungimiranza perché sappiamo benissimo che forse non sarebbe così adesso nell'attualità questo questo mondo se non ci fossero queste regole molto restrittive per cui loro si sono abituate alla presenza dei turisti in piccoli numeri e sottolineo piccoli numeri perché è deciso così perché non ci sono le orde di turisti non possono arrivare perché ci sono delle regole anche di tipo quantitativo e quindi loro hanno cominciato ad abituarsi a questa presenza umana che non hanno mai visto come essere un rischio per la loro per la loro vita e quindi oggi viviamo questo privilegio unico di poterli avvicinare e di poter partecipare diciamo proprio della loro vita senza che loro si sentano disturbati e approfitto per raggiungere anche un aspetto che ha a che fare con questa foto dei due ragazzi nella nell'immagine sono le mie figlie che ho avuto il privilegio di poter portare a conoscere questo posto meraviglioso qualche anno fa e mi sono reso conto di come sia per loro un'esperienza veramente unica quella di portare dei figli dei ragazzini un accorgimento che mi sento di dare da padre pagante pagante oltretutto potrei dire e di non portarli troppo piccoli perché comunque poi sappiamo bene che le esperienze loro le dimenticano che per quanto gli lasciano sicuramente qualcosa però è bello poi anche nel tempo poterle condividere come ricordi e direi che andare con dei ragazzini sotto i 12 anni rischia di essere un po' anche impegnativo perché comunque non è un viaggio affatto facile si naviga molto ci sono lunghe camminate lunghe insomma relativamente lunghe camminate bisogna è una vacanza molto attiva per cui loro la vivono anche un pochino come una vacanza un po' troppo ricca di regole no perché tutto un orari precisi cioè è una ragazza una vacanza che non si può fare in modo improvvisato per cui perfetto per i ragazzini per andare con i figli con la famiglia però tenendo presente questo aspetto senti io so che le Galapago si possono fare sia soggiornando in barca che come abbiamo fatto noi che rimanendo anche sulla terraferma ci spieghi le differenze per quale motivo è sempre preferibile la barca lo vediamo lo vediamo tra un attimo vediamo dopo come dicevo parco nazionale ha creato delle regole molto rigide c'è tutto un decalogo che viene proprio consegnato quando si arriva a destinazione che bisogna in qualche modo proprio accettare e a me piace moltissimo questa immagine che è molto comune anche questa di trovare l'animale che occupa per esempio degli spazi che noi pensiamo che siano normalmente per le persone no come una panchina e invece può essere occupata eventualmente da un leone marino ed è molto bello in questo caso con la scritta appunto di conserviamo il nostro patrimonio no le regole sono tante ma in sintesi le principali sono che non si può viaggiare in modo autonomo per cui tutte le escursioni si devono fare con guida ufficiale mi dispiace per chi ama il viaggio fai da te totalmente in libertà qui non si può fare ogni guida può portare un massimo di 16 persone e questo ha un riflesso poi sull'organizzazione anche per quanto riguarda le crociere che vedremo tra un attimo non si possono avvicinare negli animali oltre i due metri di distanza pur dicendo che molto spesso sono gli animali ad avvicinarsi di più per cui in quel caso insomma si crea una sorta di rispetto reciproco come dicevamo come dicevi tu prima Gianni e non si possono toccare e si cerca insomma di di non alimentare troppo magari la loro curiosità perché loro sono curiosi e si avvicinano non si possono assolutamente toccare ma soprattutto non si può dare da mangiare a nessun animale non si possono rimuovere elementi dall'ecosistema non si può fumare non si possono bere alcolici non si possono accendere fuochi in tutto l'arcipelago sanne salvo solo il fumare bere nei piccoli centri urbani nelle zone urbane bisogna camminare sempre sui sentieri segnalati non si può andare in giro così a caso le foto devono sempre essere fatte senza flash e non si possono introdurre elementi esterni questo appunto è qualche modo il contrario di quello che abbiamo detto prima che non si possono rimuovere elementi ma non si possono neanche neanche portare per cui le escursioni prevedono sempre tutta una serie di pulizie anche delle scarpe eccetera quando si scende a terra si è creata negli ultimi decenni soprattutto una convivenza tra animali e persone che è veramente interessante trovo che sia uno degli aspetti diciamo al di là di quello che è proprio la bellezza del posto tra i più curiosi e particolari che si possono vedere qua come dicevo c'è presenza umana ci sono alcuni centri abitati in particolare c'è Puerto Iora che è la cittadina più importante e qui gli animali sono come sempre sono abituati a a viverci per cui si sono abituati anche a vivere con la presenza umana e la scena meravigliosa che che si può vedere appunto al mercato del pesce per esempio dove gli animali naturalmente trovano molto comodo ottenere del cibo semplicemente andando a prendere un po' gli scarti che trovano da di questi banchi e queste sono appunto scene di vita urbana normali quotidiane per esempio ci si può trovare la leone marino che attende di ottenere un pesce così come un cliente che magari ci si trova a dover fare la fila con i leoni marini che anche loro hanno interesse diciamo al prodotto che si trova sul banco queste sono scene che veramente secondo me rimangono poi nel cuore quando si fa un viaggio in questo posto come visitare le isole come dicevo ho rimandato perché è dedicata una parte a questo allora le isole si possono visitare fondamentalmente in due modi uno è pernottando a terra e l'altro invece pernottando in crociera in questo schema vediamo l'arrivo che è sempre necessariamente in volo da chito o guayaquil dal continente si raggiungono in circa due ore i due aeroporti uno dei due e nella soluzione terrestre si pernotta nei centri abitati che sono fondamentalmente due i principali che sono questo appunto dell'isola di San Cristobal e Puerto Iora che si trova invece qui sull'isola di Santa Cruz proprio al centro dell'arcipelago e poi c'è un terzo piccolo centro abitato che si trova qui che si chiama Puerto Villamil che si trova sull'isola di Isabela questi tre centri urbani in tutti i casi in tutti e tre i casi offrono delle sistemazioni e offrono la possibilità di esplorare alcune zone in escursione giornaliera il limite di questa anzi i limiti di questa formula sono molto evidenti ed è importante conoscerli bene perché se no capita quello che a me capita spesso e di sentire persone che sono state alle Galapagos hanno fatto un viaggio comunque costoso e poi mi dicono ma sì più o meno pensavo un po' meglio quasi sempre se non sempre quelle persone poi scopro che hanno hanno fatto il viaggio con quello che si chiama island hopping ossia appunto pernottando sulle isole tra poco capiremo molto bene perché è così limitato scusate vai tranquillo noi ti supportiamo allora il la realtà qual è è che comunque la maggior parte dei luoghi di visita si raggiungono navigando e le distanze non sono brevi quindi quando siamo in un centro abitato dovremmo giornalmente fare un'escursione in barca e le barche sono tipo questa cioè questo all'interno di una barca tipo in cui ci si siede e si aspetta di arrivare al luogo di visita e poi a metà giornata a fine giornata a seconda del tipo di escursione si torna nuovamente nel punto di partenza c'è gente che mi dice ah ma io soffro un po' il mare per cui preferisco fare le galapagos a terra e no purtroppo non funziona così perché in questo caso si naviga comunque si naviga paradossalmente anche un po' di più perché si deve fare sempre andate ritorno mentre con la crociera vedremo che è un itinerario normalmente ad anello per cui non si va avanti indietro e soprattutto la navigazione in questo caso è proprio navigazione cioè io mi siedo aspetto di arrivare mentre invece in crociera uno ha delle aree comuni molto spesso i trasferimenti sono notturni per cui si utilizza si sfrutta molto meglio il tempo cosa che invece in questo caso non si può fare perché si deve sempre tornare alla base il limite però più grosso della soluzione a terra è il fatto che ci sono tre punti dell'arcipelago che si considerano abitualmente come quelli più belli che sono quelli che ho indicato con delle frecce rosse e che se vedete si trovano un po' alle estremità sembra quasi uno scherzo ma perché sono quelli proprio più lontani che sono più scomodi da raggiungere beh sicuramente un po' perché gli animali giustamente hanno detto ma se ci sono delle terre un po' più lontane dagli uomini forse meglio andare lì per cui sono le zone sicuramente più ricche di vita rispetto a quelle dell'arcipelago centrale bellissimo anche l'arcipelago centrale bellissimo ci sono esperienze magnifiche e indimenticabili ma non quanto quelle di questi tre punti un po' più più esterni un vantaggio invece della soluzione a terra è che innegabilmente si sta meglio in un letto sulla terraferma che non su una nave su questo siamo d'accordo così come anche alcuni aspetti della vita di questi piccoli centri urbani può essere molto interessante così come andare alla sera a prendersi una birra in un bar perché comunque c'è questo tipo di possibilità di fare anche un pochino la vita notturna chiamiamola così per cui ci sono aspetti che sono positivi nel caso della del soggiorno a terra però io quello che suggerisco in questi casi se c'è disponibilità economica di tempo di fare piuttosto entrambe le cose di fare una crociera non lunghissima adesso vedremo di quanto sono lunghe e anche però fare l'esperienza terrestre cioè di non fare solo l'esperienza terrestre questo è il mio consiglio allora in questo caso vediamo due cose una è quello appunto dei punti periferici che sono quelli un po' più belli così a detta di un po' tutti e soprattutto vediamo come come si configura un viaggio in crociera questa è la soluzione appunto sicuramente un po' più costosa ma che al tempo stesso sfrutta molto meglio i tempi per cui una crociera di 4 5 giorni rende in termini di esperienze molto di più rispetto a 4 5 giorni a terra ok quindi costa un po' di più però si può fare anche un po' meno tempo vediamo delle linee colorate che toccano sempre uno di questi punti che dicevo che sono quelli un po' più ricercati quindi abbiamo un itinerario che tocca l'isola di Genovesa abbiamo un itinerario che tocca l'isola di Spagnola e un itinerario che tocca questo questa area che sta tra Isabella e Fernandina che è una zona molto ricca di vita marina le crociere sono tutte gestite dal parco nazionale che stabilisce le rotte gli itinerari e insieme alle compagnie di navigazione per cui nulla è lasciato al caso e vengono stabilite gli itinerari di 14 notti quindi ogni imbarcazione naviga per 14 notti attraverso un itinerario che chiaramente molto lungo 14 notti per la maggior parte delle persone è un po' troppo tempo e quindi vengono spezzati in diversi itinerari che possono essere di 3 notti e quindi 4 giorni 4 notti e quindi 5 giorni oppure più lunghi io quello che suggerisco è di evitare 3 notti perché veramente poco cominciare a considerare valida l'opzione di 4 notti 5 6 notti sono veramente ottime e poi di più bo sta un po' la persona se ha voglia veramente di stare così tanto tempo a bordo di una nave e soprattutto se ha effettivamente la l'intenzione di spendere veramente tanti quattrini perché qua lo diciamo le Galapagos sono una destinazione molto cara e quindi le navigazioni per esempio si dividono in crociere care e carissime io faccio questa semplificazione perché non esiste il non molto caro c'è il caro il carissimo e il carissimo veramente caro giusto per un ordine di spesa sì per un ordine di spesa un viaggio alle Galapagos facilmente può costare tra 800 mille euro a notte ok per cui fate due conti a persona con tutto incluso potremmo dire in effetti a quel punto perché poi in crociera non ci sono quasi altre spese quindi escursioni pasti tutto incluso e qui vediamo appunto delle idee di itinerari che sono però semplicemente così una delle tante possibilità perché la vostra crociera potrebbe toccare altri punti ma quasi sempre se non sempre la vostra crociera toccherà almeno uno dei punti cruciali che abbiamo detto che abbiamo segnalato in rosso punti che non raggiungerete mai facendo l'esperienza a terra perché sono troppo distanti per cui non c'è nessuna escursione che riesca a raggiungerli in giornata aggiungo io una considerazione che è molto importante questo non vuol dire perché succede spesso non nei viaggi questo non vuol dire che le persone che fanno le Galapagos rimanendo a soggiornando a terra arrivano indietro dicendo ma non mi sono piaciute molto sì magari sono meno entusiasti di altre però saranno sempre piaciuti il problema è che si sono perse e non sanno esattamente che cosa si sono perse ma o ne sono forse consapevoli parzialmente consapevoli ma si sono perse il clou si sono perse veramente la parte più unica io ho fatto una crociera facendo mi pare cinque notti adesso non ricordo esattamente anche nella nostra crociera abbiamo toccato uno di questi punti magnifici e insomma te lo ricordi ecco non è che passa inosservato perché quella spiaggia era veramente bianca unica con un ricordo unico fine della mia interruzione qui vediamo un altro aspetto importante nel momento in cui andiamo a scegliere un viaggio in crociera in questo caso le navi non sono tutte uguali e tra l'altro sono tantissime per cui si fa una selezione in base a prezzo durata disponibilità eccetera eccetera ma in una semplificazione massima ho messo qui due esempi uno è quello di sopra è una formula tipo yacht quindi sono imbarcazioni che normalmente portano 15 16 turisti e il numero non è casuale perché se ricordate una guida può portare un massimo di 16 persone per cui va da sé che in una di queste imbarcazioni c'è poi una guida a bordo che rimane con i viaggiatori tutto il tempo una guida che parla sempre spagnolo inglese e attenzione perché alle Galapagos c'è una tendenza a utilizzare molto di più l'inglese rispetto allo spagnolo che è una cosa che magari a qualcuno può dare fastidio se qualcuno conosce la lingua spagnola effettivamente dà un po fastidio pensare che sia in un paese in cui la lingua ufficiale effettivamente è lo spagnolo però prevale l'inglese questo per un motivo puramente diciamo di presenza di turisti che sono in gran parte dagli Stati Uniti dal nord Europa così stato tradizionalmente per cui c'è questa caratteristica non ci sono praticamente soluzioni di guida in italiano questo va anche detto e dicevo barca piccola vantaggi e svantaggi velocissimamente vantaggi non c'è la sensazione di essere diciamo un po intruppati in una sorta di crociera un po più standard anche se adesso che vi dirò quanti sono i partecipanti della crociera grande vi renderete conto che non stiamo parlando di crociera e costa o simili però la barca piccola sicuramente dà questa sensazione di essere ancora diciamo un'esperienza più intima e al tempo stesso questo è un po anche il difetto perché queste imbarcazioni non hanno gli spazi comuni così comodi come le barche più grandi e quindi si sente un po di più a volte magari il mare e gli spazi sono un po più ridotti anche a livello di cabine molto spesso anche se va detto che le barche più belle tendenzialmente sono quelle effettivamente piccole o medie quindi la comodità se si vuole e si può pagare c'è ok parliamo di prodotti poi anche veramente di fascia molto alta in questo caso la crociera grande tra virgolette appunto è quella ce ne sono due o tre due è un esempio questa che vediamo nella foto di sotto si porta porta un massimo di 90 persone questo è stabilito dal parco nazionale quindi se ci fosse anche una nave più grande comunque non potrebbe portare più di 90 persone 90 persone vengono divise in gruppi quindi ci sono più guide in questo caso molto spesso si dividono anche per lingua per cui chi magari preferisce lo spagnolo può scegliere di stare in un gruppo in spagnolo e chi invece predilige l'inglese sta in un gruppo di lingua inglese in questo modo diciamo si semplifica un po gli spazi comuni a bordo sono un po più ampi c'è un po più di comfort proprio magari c'è anche non so la la sala ristorante un po più comoda e ci sono gli spazi come la biblioteca la sala conferenza dove si tengono le incontri con i biologi che appunto fanno le lezioni nei tempi di trasferimento quindi è un po più diciamo stile crociera però la limitazione è che bisogna fare dei turni per scendere perché comunque a terra si scende un massimo di 16 per cui non si può arrivare tutti insieme si fanno orari che sono scaglionati in modo proprio da rispettare questa regola insomma diciamo che tutte e due le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi chi fosse indeciso può scendere un' imbarcazione media che sono quelle che portano da 30 a 45 persone ok rispondo c'è qualche domanda no vai pure e qui rispondo e devo dire che concludiamo alla domanda per quanto riguarda il sub allora le galapagos sono una destinazione meravigliosa per chi fa sub proprio inteso con immersioni con le bombole e è un paradiso in questo senso perché è un arcipelago ricchissimo di vita ma soprattutto essendo un arcipelago proprio nel in acque oceani che ci sono anche possibilità di vedere animali molto molto grossi molto diciamo insoliti per chi fa magari solo le abitualmente le immersioni magari nella barriera corallina delle acque tropicali dove si vedono i pescioni colorati qua si vedono anche creature veramente grandi per esempio sono famose le zone dove si possono vedere questi banchi di squali martello o insomma anche tanti altri animali veramente poderosi e sempre senza pericoli e ribadisco non non c'è nessun problema quello che si va detto è che proprio per il fatto che ci troviamo in acque comunque oceaniche è richiesto un certo livello di esperienza non dico che bisogna essere dei super esperti però non è un posto dove fare le immersioni così quando si è proprio alle prime armi anche perché le formule per poter fare immersioni sono due fondamentalmente una è scegliere una crociera subacquea questo veramente un po per i fanatici no chi fa sub sa che c'è tutto un una galassia di turisti che sono fanatici di quello che effettivamente fanno il viaggio finalizzato fondamentalmente a fare un numero infinito di immersioni che parlano solo di quello e questo tende a essere un po così cioè la crociera subacquea è veramente molto incentrata sull'attività subacquea una soluzione invece un po più soft potremmo dire è quella di fare in questo caso l'esperienza anche solo parzialmente a terra e dai centri abitati ci sono diverse uscite che invece fanno l'immersione singola o doppia comunque la fanno in diciamo un po più estemporanea per cui si può dire ok io voglio fare una giornata di sub o due ma non voglio fare tutta una crociera di una settimana per dire con persone che non parlano altro che di che di sub questo abbiamo due domande vai chiedono sono necessarie vaccinazioni in Ecuador alle Galapagos e poi quali temperature ci sono sott'acqua? Ah ne è arrivata una adesso volevo chiedere infortunata assistenza sanitaria voleva sapere qualcosa come l'assistenza sanitaria e il cibo informazioni sulle tre quindi vaccinazioni temperature dell'acqua e sì vaccinazioni no possiamo dire che diciamo se parliamo di vaccinazioni obbligatorie assolutamente no se parliamo di vaccinazioni suggerite o consigliate dipende un po dal tipo di esperienza che si fa nei momenti in cui ci fosse eventualmente anche un'esperienza in terraferma per esempio in zone remote dell'Amazzonia allora cambia un po' il discorso però se parliamo di Galapagos e di zona del dell'altopiano quindi della zona di Chito ed intorni assolutamente non ci sono problematiche legate per esempio a febbre gialla dengue tutte queste cose qua e la seconda domanda invece era temperatura dell'acqua sì beh a temperatura dell'acqua in parte abbiamo risposto dicendo che ci sono per semplificare due stagioni abbastanza diverse la nostra estate tende a essere abbastanza freddina cioè per essere una zona di acque equatoriali sono freddine può essere 18 20 dipende molto anche dalle singole zone proprio nell'arcipelago grande però sono acque fresche quando si va in profondità diventano freddine l'acqua invece nelle stagioni più calde che sono appunto il gennaio febbraio tendenzialmente ci sono temperature che possono essere 25 27 nelle zone proprio più riparate più 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 tiepide quindi in generale non sono acque fredde però sono acque che hanno queste differenze quando siamo stati noi ad aprile abbiamo fatto dei bagni e noi abbiamo fatto snorkeling e quindi maschere boccaglio ma non le bombole avevamo una temperatura dell'acqua che era gradevolissima fantastica non abbiamo detto che normalmente comunque si utilizzano le mute in questo caso per cui questa attrezzatura viene data già nelle crociere basta indicare la taglia e viene fornita a meno che uno non preferisca portarsi le proprie cose e la muta ha un duplice vantaggio uno fatto appunto di non sentire il freddo che magari si sente dopo un po' no la dispersione in acqua è molto molto veloce e quindi quando si sta in acqua a lungo chiaramente la muta aiuta ma un aspetto anche forse più importante è il fatto della protezione dal sole perché la muta vi permette di fare appunto snorkeling in superficie e non bruciarvi col sole dell'equatore questo è un dato allora sono arrivate altre domande quindi prima di chiudere andiamo in ordine rispondiamo alla domanda riguardante l'assistenza sanitaria e cibo va bene l'assistenza sanitaria dunque se parliamo delle Galapagos ci sono dei centri medici nelle località principali che sono appunto puerto iora e puerto baccherizzo moreno che sono sempre a distanze relativamente contenute ecco da dove si naviga le imbarcazioni più grandi hanno anche un medico a bordo però solo quelle più grandi e c'era anche una domanda alla stessa forse come il cibo io direi che si mangia molto bene sì diciamo allora non è una destinazione da esperienza gastronomica più di tanto però in generale lì dipende un po' anche dalla scelta che si fa in questo caso soprattutto della crociera ci sono alcune crociere che sono di altissimo livello come dicevo per cui ovviamente fanno molta attenzione anche alla parte gastronomica su altre imbarcazioni l'esperienza è un pochino più semplice però c'è una cucina abbastanza internazionale in genere in queste in queste situazioni e vado io con due domande vado allora valentina ci chiede se nei diversi periodi dell'anno si vedono sempre gli stessi animali oppure animali differenti e la seconda domanda e la seconda domanda è maria cristina che ci chiede voleva sapere se il viaggio è molto impegnativo fisicamente ossia se si cammina tante ore durante l'escursione io cammino senza problemi ma non ho esperienze tipo trekking impegnativi ok ottime domande allora la domanda sulla presenza degli animali è un aspetto che ci tengo effettivamente a a segnalare gli animali vivono le galapagos non sono di passaggio per cui questo anche è un altro motivo per cui non temono l'uomo perché loro vivono solo lì dove c'è con l'uomo questo rapporto particolare per cui in ogni momento dell'anno vedrete delle fasi di vita diverse perché ogni animale ha il suo ciclo di vita i suoi periodi in cui ci sono le riproduzioni cuccioli eccetera ma non si può generalizzare perché ovviamente sono tantissime specie e ma tutti gli animali si vedono in tutto l'anno per cui a differenza di zone per esempio io tratto molto la patagonia ci sono delle zone in cui gli animali sono solamente stagionali per cui in effetti se vai a non so a luglio a vedere i pinguini in patagonia non li trovi perché sono altrove invece le galapagos in qualunque momento dell'anno comunque gli animali ci sono e come e impegnativo come viaggio quanto impegnativo allora è impegnativo sì ovviamente qui entriamo in una misurazione molto difficile da generalizzare no perché è tutto relativo io definisco il viaggio alle galapagos come un viaggio attivo vuol dire che non è solo contemplativo che uno guarda dalla nave senza senza far nulla è un viaggio attivo ma al tempo stesso non ci sono per esempio problematiche legate all'altitudine cosa che ci possono essere invece nella parte continentale quindi fare una camminata 3.500 4.000 metri quando si va nelle zone dei vulcani di chito può essere impegnativo per quello ma le galapagos questo problema non c'è le camminate non sono mai impegnative per chi diciamo fa abitualmente un minimo di movimento certo se ci sono persone che purtroppo hanno delle limitazioni delle limitazioni per qualsiasi voglia motivo è una destinazione difficile perché i terreni sono molto accidentati quindi si cammina molto spesso proprio su terreni lavici e su sentieri abbastanza difficili però non ci sono difficoltà per chi ha una forma fisica normale dicevo un viaggio impegnativo soprattutto per il diciamo l'organizzazione abbastanza rigida dell'attività quindi se uno vuole farsi la vacanza spensierata e che nessuno gli dica quando deve fare ogni cosa non è la vacanza per lui perché le crociere soprattutto hanno delle tempistiche ovviamente che vanno rispettate si fanno tendenzialmente due discese al giorno una al mattino e una al pomeriggio in entrambe le discese in linea di massima si fanno un po' di attività su terra un po' di attività in acqua ovviamente ci sono eccezioni perché in alcuni casi potrebbe esserci prevalenza di uno dell'altro e anche solo questo fatto di fare sbarchi così frequenti crea comunque un una sensazione di di attività cioè ma non è una vacanza rilassante io dicevo chi cerca solo relax il mare non non vada alle galapagos perché trova di meglio in altri posti non è una vacanza balneare no ho finito le domande tu hai finito o hai ancora altre io ho chiuso effettivamente anche io perché interrompi la condivisione che io ti faccio vedere invece la tartaruga legata alle persone perché sì ok ci siamo perché adesso provo vediamo se funzioniamo così abbiamo se riesco eccolo qua ah perfetto vedete la foto nostro del gruppo con la tartaruga che come si vede è bella grande sì esatto sì 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 questa è proprio una delle tantissime le tantissime incontri ravvicinanti che si possono fare allora io rimango a disposizione se c'è qualche altra domanda ulteriore altrimenti più o meno questa è la durata che avevamo in mente per cui abbiamo rispettato non arrivano altre domande arriva qualche ringraziamento dal numero di domande direi che è andata molto bene poi siamo una destinazione che tutti conosciamo ma che pochi come dirci che destra sempre molte molte informazioni c'è una domanda di Cesare che chiede se spagnola è ancora chiusa allora c'è non si può rispondere perché oltretutto oggi siamo in diretta ma tra poco comincerete a vedere questo video anche in differita le isole vengono aperte e chiuse dal parco nazionale abbastanza di frequente ci sono state ultimamente delle problematiche legate all'aviaria quindi problematiche sanitarie proprio degli animali questo a livello mondiale non solamente le Galapagos anche genovese è stata chiusa per un periodo per cui in realtà non rispondere a questa domanda perché può cambiare tra un mese e la risposta di oggi sarebbe abbastanza ininfluente bene arrivano molti ringraziamenti che sei stato come dire interessante esaustivo vi ricordo a tutti ancora che il video se avete poi dei dubbi o volete magari andare a rivederlo e quant'altro lo trovate sul sito di pianeta gaia sezione per i viaggi e che dire noi ci vediamo al prossimo appuntamento oppure se avete delle informazioni o delle richieste da fare per un viaggio alle Galapagos o da altre parti noi restiamo a disposizione Andrea grazie mille a tutti grazie grazie a tutti alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.